La parola possessione è la caratteristica di fondo dell'amore, nel senso che quando uno si in amore è posseduto da una forza su cui non ha potere. Un giorno Socrate è stato invitato nella casa di Agatone per una cena tra amici e a un certo punto si ferma sotto un portico in uno stato di atopia. Immobile. I suoi amici lo precedono, Agatone dice dove è Socrate? E Alcibide risponde è stato colpito da un attacco di atopia, tra un po' ci raggiungerà. La cena era organizzata in modo tematico, si doveva parlare di amore. E giustamente Socrate si ferma in uno stato di atopia. Che cos'è l'atopia? I psichiatri si sono impegnati a cercare la sindrome, l'hanno identificata con l'epilessia, ma con l'epilessia non ha niente a che fare perché l'epilessia era già ben nota ai greci. L'aveva individuata Ippocrate dicendo che il male oscuro è oscuro solamente perché non ne conosciamo le cause, ma il giorno che ne conosciamo le cause non è più oscuro e possiamo nominarlo. Quindi atopia non è epilessia, atopia è una parola greca. Topos vuol dire luogo, atopos vuol dire fuori luogo. Se vogliamo parlare d'amore dobbiamo dislocarci, abbandonare il luogo che abitualmente abitiamo, che è il luogo dell'io, per usare un termine psicologico, il luogo della razionalità, per usare un termine filosofico. Si può parlare d'amore solo se ci disloca dalla razionalità. In questo dislocamento, dice Socrate, si è in uno stato di katakoke, di possessione. Siamo posseduti perché non possiamo disporre di amore come disponiamo del pensiero, del linguaggio, dei gesti, ma al contrario amore ci possiede. In questo senso amore è possessione. E in questo stato di possessione la condizione è quella dell'entusiasmo, una parola greca che contiene nel suo etimo la parola Dio. Entusiasmo vuol dire enzeos, dentro di te c'è un Dio che parla. Non io parlo, ma il Dio parla nella condizione entusiastica. E qui Platone ci viene a dire che i beni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino. E ancora Platone ci dice, la follia dal Dio proveniente è assai più bella dell'umana ragione. Detta da chiunque queste due frasi avrebbero il valore che hanno, ma detta da Platone hanno un grande valore. Perché Platone è colui che ha fondato il modo di pensare e di parlare di noi occidentali. Ci ha insegnato a essere ragionevoli, a discutere secondo ragione. E qui devo fare una piccola parentesi, altrimenti non capiamo che cos'è amore ospite della follia. Che cos'è la ragione? La ragione è un sistema di regole, organizzata secondo un principio, che si chiama principio di non contraddizione. Il principio di non contraddizione dice, questa è una bottiglia e non altro. È vero che questa è una bottiglia e non altro? È una verità? Risposta, no. Perché se io prendo questa bottiglia e la getto in prima fila, divento un'arma impropria. Allora il principio di non contraddizione determina, definisce, pone fine al significato delle cose. La ragione è questa. Non dice la verità. Dice un sistema di regole, grazie alle quali noi possiamo intenderci. E crea un vissuto comunitario che riduce l'angoscia. Infatti, prima ho preso in mano la bottiglia e nessuno di voi si è alterato, perché ipotizzate che io la usi per bere e non come armi impropria. Questa è la ragione. Bisogna essere ragionevoli. I bambini non sono ragionevoli. Arrivano all'età della ragione. Nascono nella follia. E per questo i bambini vanno continuamente accuditi. E i loro gesti sono tutti pericolosi. Bisogna stargli addietro, come si dice. I pazzi sono temibili solo per quel tanto che le loro azioni sono imprevedibili, perché usano le cose a partire dalla disponibilità che queste cose hanno, a prescindere dalla univocità del loro significato, assegnato dalla ragione. Ma anche i poeti abitano la follia. Quando Leopardi dice Dimmi che fai, tu, luna, in ciel, dal punto di vista razionale è una domanda senza senso. Che cosa faccia la luna? Lo sappiamo tutti. Interrogare la luna non riveste un particolare senso, perché non c'è da attendersi a alcuna risposta. Ma perché è un'espressione poetica? Perché Leopardi dice, sottintende, la luna è la luna, ma anche qualcos'altro. Ma anche una possibile interlocutrice femminile che può darmi risposta. In questo ma anche noi compiamo una trasgressione della ragione e sconfiniamo nella follia. I poeti, quindi, si trovano in quella zona dove la dimensione razionale si lascia contaminare dalla follia. E in questo senso Heidegger dice opportunamente i poeti sono i più arrischianti. Lo psicopatologo Carly Jaspers dice che ogni volta che noi ammiriamo un'opera d'arte ci comportiamo come di fronte all'ammirazione di una perla. Ma dimentichiamo che la perla è la cicatrice della ferita della conchiglia. E la ferita è proprio questo sacrificio dell'artista che deve sacrificare la sua razionalità, contaminarsi con la follia e dalla follia riuscire a creare. Perché con la ragione non si crea niente, essendo la ragione un sistema di regole. Tutti gli artisti sono dei contaminati, sono dei sacrificati, sono coloro che hanno una certa dimestichezza con la follia che ci abita. Dobbiamo anche sapere che la follia è un costitutivo di noi stessi. Noi, dal punto di vista razionale, siamo tutti uguali. Le nostre differenze dipendono dalla qualità della nostra follia. È sufficiente che ci addormentiamo ed entriamo quando la coscienza si addormenta, la razionalità scompare, appare il teatro dei sogni che è il teatro della follia. Prima di essere interpretati i sogni come fanno gli psicoanalisti, bisogna considerarli proprio come il teatro della follia. Perché non funziona il principio di non contraddizione nei sogni. Nei sogni io sono presente, ma anche assente. Sono maschio, ma sono anche femmina. Sono adulto, ma sono anche bambino. Il rapporto causa-effetto si capovolge, spesso l'effetto produce la causa e la causa non produce l'effetto. C'è la destrutturazione del tempo, un sogno incomincia a New York e finisce nell'impero romano. La destrutturazione dello spazio è il teatro della follia. Poi ci risvegliamo e dobbiamo acquisire gradatamente quella coscienza che abbiamo abbandonato addormentandoci. Tant'è che Jung dice che la coscienza razionale non la si deve chiamare, come la chiamano i tedeschi, Bewustsein, essere coscienti, ma bisogna chiamarla Bewustwerden, diventare coscienti. Noi diventiamo coscienti di giorno in giorno, il che si lascia intendere che la follia è il luogo eminente che ci abita. La razionalità, la razionalità coscienziale, quello che gli psicologi chiamano io, è una costruzione, è un sistema di regole, ma non è la verità del nostro profondo. I beni più grandi ci vengono dalla follia, naturalmente data per dono divino, la follia dal Dio proveniente, essa è più bella, dell'umana ragione. A questo punto capiamo perché Platone, che ha inventato la ragione, sottintende questo scenario, quell'abisso della follia che ci abita, e da cui gli uomini si sono tenuti lontani e continuavano a tenersi lontani, attribuendo la follia agli dèi. E allora qui possiamo per semplificazione fare una divisione netta. Gli uomini che provengono dagli dèi, cioè dalla follia che li abitava al loro insorgere, si separano dagli dèi con gli apparati razionali. Prima con gli apparati tribali, prima con i riti, che stabiliscono cosa si può e non si può fare, poi con la ragione, che stabilisce che una bottiglia d'acqua è una bottiglia d'acqua e non altro. E non altro. In maniera da potersi intendere e da non poter inquietare. Ecco, e allora che cosa succede? Che gli uomini rappresentano la parte razionale e si separano dagli dèi a cui offrono sacrifici, non per ottenere grazie, ma per tenerli lontani. perché l'invasione del Dio nella comunità è terrificante, fa esplodere la follia nella comunità e se è per l'individuo fa esplodere la follia nella mente degli umani. Qui abbiamo degli esempi già da Omero, un giorno Achille, ad Achille viene sottratta la sua schiava preferita che era Briseide, a sottrargliela è Agamennone. Achille non va più in battaglia e quando Achille diserta il campo di battaglia le cose vanno male per gli Achei. Non si può chiedere ad Agamennone di chiedere scusa ad Achille perché un re che chiede scusa perde la sua regalità. E allora Ulisse inventa dei giochi e nel mezzo dei giochi tra i premi si mette anche Briseide. Achille vince il gioco e Briseide gli viene restituita. Al momento della restituzione Agamennone si rivolge ad Achille e gli dice non io, mego, non io, ti ho sottratto Briseide, ma le ate, le atai, ate è una parola greca che si può tradurre tanto con disordine, con violenza, col disordine mentale, con la violenza che gli dèi infliggono nella mente degli uomini. Quindi la colpa non è di Agamennone ma è del Dio che ha disordinato la mente di Agamennone e l'ha indotto alla violenza. Non è una giustificazione perché Achille risponde conosco quanto tremende sono le atai che gli dèi infliggono nella mente degli umani. Un altro episodio ce lo fornisce Euripide in questo gioco tra ragione e follia. Ce lo fornisce Euripide nelle vacanti quando Dioniso entra nella città crolla il palazzo reale il sovrano viene ucciso le donne salgono sul monte Citereo agitando il tirso i vecchi si comportano come i bambini è il disordine totale della città lo sconvolgimento. A un certo punto il coro chiede ma non possiamo allontanare il Dio? e dopo un po' la risposta se la dà il coro stesso e dice nessun uomo può allontanare il Dio tradotto nessun uomo noi con la nostra ragione non abbiamo potere sulla superpotenza della follia nessun uomo può allontanare il Dio è necessario che il Dio si allontani da solo e quando Dioniso si congeda da Tebe nella città ritorna l'ordine pensate che nel 1800 gli psichiatri quando congedavano un paziente mentale scrivevano prima della loro firma D.C. Deo concedente se il Dio concede di abbandonare la mente di quest'uomo quest'uomo potrà rinsavire e qui allora dobbiamo apprendere che nei confronti della follia la struttura razionale è estremamente debole non abbiamo potere sulla follia con gli strumenti della ragione lo stesso scenario noi l'abbiamo da quell'altra cultura che fonda l'Occidente che è figlio della grecità da un lato e dalla tradizione giudaico-cristiana dall'altra il padre di tutte le tre religioni Abramo un giorno riceve da Dio l'ordine di sacrificare suo figlio quindi qualcosa che va contro le leggi di natura e qualcosa che va contro anche le leggi morali non ammazzare i due si salgono sul monte il povero Isacco chiede ma padre mio abbiamo la legna abbiamo il fuoco ma dov'è l'agnello l'agnello è lui giunti sul posto Isacco viene legato sull'ara Abramo alza il suo pugnale e Dio gli ferma il braccio bontà sua questo per dire Fiergegard insiste molto su questo brano che commenta in timore e tremore Dio è al di là di ogni regola razionale è al di là di ogni legge di natura è al di là di ogni legge morale Dio non sta al bene al male non sta alla razio del do ud des che è il fondamento della ragione Dio se ne sta al di là e chiedere a Dio di rispettare le norme etiche o addirittura le leggi di natura significa misconoscere Dio lo dice Kierkegaard un filosofo cristiano giustamente anche quando Dio dai dieci comandamenti dice a Mosè allontanati nasconditi dietro la siepe perché nessuno può vedermi e sopravvivere quando me ne sarò andato mi riconoscerai dalle mie tracce e così fa Edmond Jabbè che è un poeta francese ebreo morto qualche anno fa dice esplicitamente con Dio non si può avere un faccia a faccia perché tutte le facce sono sue in Dio non funziona neanche il principio di identità non ha una faccia anche le metamorfosi degli dei greci chi è Zeus Zeus è il padre degli dei ma è anche tuono è anche fulmine è anche toro è anche pioggia i principi di identità e di non contraddizione non funzionano nel mondo degli dei né nel mondo degli dei greci né nel mondo del Dio cristiano quando a Cartesio viene chiesto se Dio è al di sopra o al di sotto del principio di non contraddizione Cartesio risponde Dio è al di sopra del principio di non contraddizione perché se no sarebbe vincolato da questo principio della ragione e non sarebbe più Dio chiudo questa serie di esempi che non vogliono dimostrare niente ma solo familiarizzarci con questo scenario tra la ragione della follia con l'episodio di Giobbe di cui di solito siete abituati a sentire l'elogio della sua pazienza Giobbe essendo malato non può che essere paziente non è la pazienza la sua virtù una cosa interessante di Giobbe è la sfida che pone nei confronti di Dio Giobbe si rivolge a Dio e dice tu sai che io sono un uomo giusto e nonostante questo mi trovo in questa condizione di grave indigenza e malattia mia moglie se n'è andata il mio bestiame è morto se ne sono andati i figli gli amici vengono ogni tanto a trovarmi ma solo per dirmi se sei così ridotto forse non eri un uomo del tutto giusto ma siccome tu Dio sai che sono giusto dammi una risposta la risposta di Dio è tremenda andatevele a leggere nelle ultime due colonne del libro di Giobbe Dio dice ma che domande mi fai dove eri tu quando io ponevo la terra sui suoi pilastri dove eri quando riempivo le acque e gli animali marini dove eri quando riempivo il cielo dei suoi volatili dove eri e va avanti per due colonne e mi stai chiedendo che sei malato che la moglie è scappata che i muoi sono morti ma dove eri tu che diritto hai di farmi queste domande Dio non sta alla giustizia retributiva non è vero che esser buoni esser giusti prevede un compenso perché questo è un discorso razionale ma Dio al di là della ragione e allora Platone che queste cose le sapeva già bene ma anche abbiamo visto i riferimenti biblici dicano la stessa cosa istituisce che la relazione follia-ragione è la distinzione tra uomini che abitano la ragione e dei che sono al di là del vero e del falso dell'identità e della disidentità del bene e del male la divinità è questo il sacro è questo e anche nelle messe cristiane quando si recitava in latino si usava nei confronti del Dio la parola sanctus che vuol dire ad un tempo benedetto e maledetto questa ambivalenza terrificante che abita il sacro era particolarmente temuta dagli uomini i quali ripeto offriveno i loro sacrifici non per ottenere grazie come facciamo noi ma per tenere gli dei lontani perché la loro apparizione la loro comparsa e il loro ingresso nella comunità determinava lo sconvolgimento stabilito questo Platone iscrive amore nella follia ne distingue di quattro tipi la follia profetica la profezia non avviene mai su base razionali la follia iniziatica che è la follia dei riti di passaggio quando si passa dalla fanciullezza all'adolescenza bisogna cambiare la propria visione del mondo e si entra in uno stadio di follia come tutte le mamme sanno con i loro figli adolescenti ma anche quando si deve morire si entra in uno stadio di follia in tutte le dimensioni di passaggio la follia poetica abbiamo visto che i poeti arrischiano il linguaggio sporgono dal mondo della razionalità dimmi che dimmi che cosa accade al di là dell'ordine razionale l'abbiamo prima citato abbiamo prima citato leopardi ma potremmo citarli proprio tutti ma dice ma la più grande la più potente è la follia d'amore non la follia pandemia quella popolare quella che capita a tutti amore è una follia divina quindi molto più pericolosa di chi va fuori di testa per qualsiasi ragione terrene una follia divina la più grande la più potente la più eccelsa e incomincia il discorso dicendo perché gli amanti quando passano la vita insieme scrive Platone ve lo dico letteralmente non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro qui già c'è il blackout della ragione gli amanti quando vivono insieme non sanno cosa vogliono l'uno dall'altro non è certo per i piaceri carnali che essi amano stare così tanto tempo assieme è allora evidente che hanno cose da dire che non riescono a dire e perciò parlano in modo enigmatico e buio colasso del linguaggio hanno cose da dire che non riescono a dire il linguaggio non è sufficiente per esprimere la dimensione folle perché il linguaggio è razionale hanno cose da dire che non riescono a dire anche i ragazzi quando parlano dei loro sentimenti d'amore vogliono verificarli li verificano attraverso un'enfasi linguistica una ripetizione continua perché c'è un'insufficienza del linguaggio perché il linguaggio appartiene all'ordine razionale è amore no non si lascia esprimere l'ordine razionale e perciò parli in modo enigmatico e buio l'enigma appartiene alla follia quando l'enigma si solve diventa problema qualcosa problema che si può benissimo risolvere l'enigma appartiene alla follia e all'interno di questa follia accade amore del resto in un linguaggio più semplice lo stesso Freud lo dice a chiare lettere che amore l'innamoramento dice propriamente è un delirio che ha l'unico pregio di essere breve un delirio perché se voi sentite le parole degli amanti sono parole deliranti senza di temi casca il mondo non è vero con tetto quel cielo con un dito neanche questo è vero sono discorsi deliranti perché sta parlando la follia d'amore beh alla fine Socrate entra nella casa di Agatone si comincia a bere e a mangiare bevendo si scioglie la lingua l'espressione in vino veritas la trovate nel dialogo di Platone oinos eisi alezia il vino produce la verità toglie le difese indebolisce la razionalità fa emergere la follia parlano i convenuti parla Fedro parla Pausagno parla il medico Erissimac e alla fine parla Aristotele parla scusate Socrate il quale Socrate dice voi sapete che io sono il filosofo che non sa niente anche qui devo fare una piccola sosta per capire il filosofo che non sa niente non è una civetteria i sapienti sanno i preti sanno gli uomini i guru sanno loro hanno la verità i filosofi non sanno filos vuol dire amore i filosofi cercano la verità ma non la sanno la cercano e questa è la ragione per cui a un certo punto Socrate dirà che amore è filosofo ha la stessa struttura ma la vedremo in seguito cosa vuol dire che i filosofi non sanno e la cercano mentre coloro che sanno la verità la trasmettono e di questo ne siamo tutti competenti nel senso che anche la scuola funziona con questo metodo io dispongo di un sapere e te lo trasmetto Socrate invece usa un altro sistema è persuaso che la verità sia in ciascuno in ciascuno di noi e va da solo tirata fuori Platone fa l'esempio di Glauco la statua di Glauco che è rimasta in fondo al mare quando l'abbiamo tolta dal mare era piena di conchiglia di sterpaglie di erbacce di incrostazioni al punto che Glauco non assomigliava più a se stesso allora il compito di filosofo è questo scrostamento è questo restituire la statua di Glauco alla sua bellezza e alla sua verità il filosofo crede che la verità sia negli uomini vada scrostata dalle opinioni correnti dalle fedi non giustificate dalle autorità che hanno persuaso dagli effetti retorici dei sofisti che hanno sedotto l'anima questa verità va tirata fuori va tirata fuori e il modo di tirarla fuori è quello di ragionare insieme e di vedere di poterla argomentare e di poterla fondare su buone argomentazioni quando una verità tra coloro che ne discutono si fonda su buone argomentazioni questa verità fondata su buone argomentazioni si chiama episteme una parola greca che vuol dire che sta su da sé è una verità che non sta su perché me l'ha detta la televisione non sta su perché l'ha detto quel personaggio che mi piace non sta su perché l'ha detta il papa non sta su perché c'è un concerto di autorità che dicono che le cose vanno così sta su perché si argomenta da sé epistemi sta su come una colonna su di sé voi capite qui l'importanza della scuola finché la gente impari ad argomentare a ragionare e non si faccia se è duro dal primo venuto e qui Socrate dice io che non so niente di una cosa o episteme la cosa stupisce i presenti come tu Socrate hai sempre detto che sei il filosofo della dottignoranza cioè di colui che non sa niente perciò essendone consapevole ne avrà ricerche poi ci viene a dire che c'è una cosa che sai con episteme e qual è questa cosa ta erotica le cose d'amore e chi te le ha insegnate le cose d'amore una donna anche questo è sorprendente perché nelle cene che si faceva una tema tra filosofi non c'era mai una donna filosofi erano tutti maschi la cultura greca era tutta maschile ma nelle cose d'amore sembra che sia necessaria una donna e non in una parte marginale ma con lei che insegna Socrate che cosa sono le cose d'amore di ottima poi non era una donna nobile non era una donna ateniese era una donna di un paesino donna di mantinea e cosa ti ha raccontato questa donna mi ha raccontato dice Socrate che un giorno una poveraccia una stracciona a nome penia penia penuria povertà andò ad un banchetto in onore del compleanno di Afrodite si mise al bordo del tavolo come era costume per raccogliere le briciole che cadevano dal tavolo e lì incontrò un semidio di cui abbiamo notizia solo in questo dialogo che è il simposio di Platone i due mangiarono i resti che cadevano dal tavolo bevero del vino si ubriacarono fecero un amore ne nacque Eros figlio di povertà e di Poros Poros l'hanno tradotto in cento modi in contrapposizione alla parola povertà l'hanno tradotto con acquisto se però voi andate in Grecia vedete che Poros vuol dire via 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 la via delle strade Poros potremmo anche tradurlo con via d'uscita ma soprattutto povertà e qui Platone sconvolge una lunga tradizione greca mitologica che faceva nascere Eros da da nobili genitori da Afrodite che era la dea della sensualità dell'amore della sensualità non della bellezza perché la bellezza era maschile Apollo era il bello dea della sensualità e l'altro era Ares il dio della guerra che non è male perché anche anche Freud riprende queste due divinità e le colloca nell'inconscio nel nostro inconscio dice Freud c'è Eros e Sanatos il principio della vita la vita si mantiene solo finché qualcuno ci ama e noi siamo in grado di amare il resto è sopravvivenza e Sanatos che è distruttività che non è solamente rivolta ad altri ma è anche autodistruttività nel nostro inconscio ci sono queste due forze la forza della vita incastonata con Eros e la forza della morte che non è sempre morte inflitta dagli altri ma anche morte autoinflitta non solo nella forma del suicidio anche nelle pratiche di vita bene Platone elimina questa discendenza e colloca Eros in uno scenario di povertà dice che gira scalzo per i portici di Atene di notte senza dimora dorme sui giacigli cerca il cibo quando lo trova porti in ogni suo aspetto non è né giovane né bello porti in ogni suo aspetto i tratti della madre che sono i tratti della povertà qui Platone ci sta dicendo facendo la grande metafora di che cos'è l'amore l'amore per Platone è desiderio e il desiderio è mancanza io non desidero quello che ho quello che ho lo godo io desidero quello che mi manca il desiderio è mancanza anche la parola latina questa parola latina desiderio viene la troviamo per la prima volta nel tebello gallico Cesare chiamava desiderantes quelle sentinelle che di notte si ponevano sul recinto del campo dell'accampamento in attesa che ritornassero quelli che alla fine della giornata non erano tornati dalla battaglia e perciò li attendevano e si chiamavano desiderantes non perché li desiderassero in maniera particolare ma perché passavano la notte sotto le stelle alla mattina quando non erano ritornati si davano per morti e a questo punto si ricominciava la battaglia senza di loro bene il desiderio è mancanza e amore si incastra nella mancanza non nel possesso l'eros greco non è possesso è mancanza e quindi ricerca e in quanto ricerca è filosofo c'è questa sintonia tra la filosofia e l'erotica e qual è la funzione di eros dice interrogano Socrate la funzione di eros è di trasmettere agli dei i messaggi degli uomini e agli uomini i messaggi degli dei ora che abbiamo capito dopo quella noiosa introduzione che vi ho fatto intorno alla differenza tra ragione e follia che gli dei sono il luogo della follia e gli umani sono il luogo della ragione questa trasmissione non può avvenire direttamente e amore allora che cosa fa? compie un'operazione di traduzione di apportmeuon dice di apportmeuon dice Platone traducono amore traduce il linguaggio degli umani per farlo intendere agli dei e la seconda funzione è ermeneueini interpreta le parole degli dei per farle intenderle agli umani amore è metaksu sta tra metaksu vuol dire tra sta tra gli umani e divini per rendere possibile la comunicazione traduciamole nelle nostre vicende quotidiane attraverso un secondo passaggio che fa Socrate se questa comunicazione avviene accade una rigenerazione degli amanti ma quando dice amanti ci precisa una cosa che in qualche modo sbaraglia il nostro modo abituale di pensare quando due si amano noi siamo soliti pensare e dire io ti amo tu mi ami sì ma cosa vuol dire amare perché non amiamo chiunque perché amiamo solo qualcuno e qui è l'essenza del pudore perché non ci spogliamo davanti a chiunque solo ma davanti a qualcuno chi è questo qualcuno questo qualcuno è colui che ha catturato la nostra follia è qualcuno che l'ha vista quella parte inconscia per usare il linguaggio psicoanalitico che è un linguaggio modesto quella parte a noi non nota che ci costituisce quella parte divina se manteniamo la relazione follia e dei bene se qualcuno la intercetta allora noi in qualche modo siamo svelati ci fidiamo di lui ci fidiamo per quale viaggio pericoloso ci fidiamo perché attraverso lui lei può entrare nella sua follia e grazie alla fiducia accordata a lui può anche riemergere perché entrare nella propria follia non è mai un passaggio sicuro si può anche restarci dentro bisogna anche saperne uscire e non è mai un passaggio solitario anche Dante per andare all'inferno si fa accompagnare da Virgilio non si va da soli nel proprio inferno e se il rapporto è reciproco se i due catturano la reciproca follia allora nasce amore e nasce con il linguaggio della follia il linguaggio popolare non è un linguaggio qualsiasi e sono molto attento dal linguaggio popolare perché dice delle verità sodate dall'esperienza anche non pensata dalla tradizione degli uomini il linguaggio popolare dice mi fa impazzire con te perdo la testa che significa questo linguaggio da folli questo linguaggio delirante che Freud enuncia come delirio vero e proprio significa che io entro in contatto con la mia follia e di ciò mi innamoro l'amore non è un rapporto tra me e te ma un rapporto tra me e la mia follia reso possibile da te e analogamente tu entri nella tua follia e ti innamori della tua follia e ti affascina la tua follia a cui accedi grazie a me che l'ho intercettata questo è l'amore che Platone ci descrive altro che amore platonico qui siamo ad amore ad altissimi livelli il resto è idraulico allora a questo punto dice Socrate accade un'operazione maieutica Socrate diceva io faccio il lavoro di mia madre sua madre faceva l'allevatrice ostetrica cioè aiutava le donne a generare amore è maieutico è generativo nel senso che il tuo io per usare il linguaggio psicologico la tua razionalità per usare il linguaggio filosofico una volta che sono entrati nella tua follia e hanno fatto questo bagno della follia della tua follia che ti abita e di cui abbiamo parlato ci abita una follia quella che viene fuori nei sogni prima di essere affidati dai psicoanalisti che l'interpretano ciascuno nella sua maniera è un teatro di follia ecco tu quando entri nella tua follia e riemergi non sei più quello di prima per cui ogni storia d'amore è una storia di trasformazione di rigenerazione dell'io di rigenerazione della propria visione del mondo che la storia finisca bene che la storia finisca male non è interessante quando hai fatto questo passaggio in una storia d'amore non sei più quello che eri amore genera prima di generare i figli genera gli amanti ogni uomo è un uomo conclude Platone con questo simposio concludiamo anche noi ogni uomo è un uomo era uomo quando era l'uno e l'altro un tempo gli uomini erano uniti maschio con maschio maschio con femmina femmina con femmina i greci non avevano i problemi di omosessualità e di cose di questo genere erano uniti erano due in un corpo solo avevano quattro gambe quattro braccio erotolavano erano interi anfiteroi periferoi erotolavano sulla terra e con la terra generavano e Zeus temendone la potenza li lacerò in due per ridurre la loro potenza poi presa pietà della loro condizione mandò Apollo il dio della bellezza a raccattare la pelle intorno al ventre per farli sembrare meno osceni e di questo portiamo ancora il sigillo nel nostro ombelico ma da allora in poi nessun uomo è un uomo nella sua singolarità l'uomo è un uomo solo si trova la parte da cui è stato diviso l'uomo intero per cui ciascuno di noi dice Platone non è un uomo ma è il simbolo di un uomo eccaston nun un e mun antropu simbolon simbolon ciascuno di noi è il simbolo di un uomo simbolon non è una parola da affidare di psicanalisti e semiologi simbolon in greco vuol dire mettere insieme simballen ballen vuol dire gettare insieme come diaballen vuol dire separare il diavolo è il separato da dio proballen vuol dire gettare innanzi un problema è gettare innanzi una questione di cui si troverà la soluzione simbolon vuol dire mettere assieme ciascuno di noi è il simbolo di un uomo e che cosa succede che è il simbolo di un uomo ciò con cui era costituito e da cui era costituito era il due l'uno è figlio del due qui Platone è come se volesse sviluppare il concetto che la relazione viene prima dall'individuo noi siamo figli del due noi nasciamo dal due è una relazione madre figlio che genera è un corpo doppio che ci genera individui il due viene prima dell'uno ed è stato il cristianesimo a sviluppare ed esasperatamente questo concetto di individuo creando poi tutte le cose di cui oggi si lamenta l'egoismo l'individualismo dimenticando che la nozione di individuo e il primato dell'individuo sulla città è un evento cristiano i greci pensavano che la città venisse prima dell'individuo e l'individuo si giustificasse solo all'interno della città perché il due viene prima dell'uno e naturalmente stabilendo che la città viene prima dell'individuo significa che anche la relazione affettiva e amorosa viene prima dell'egoismo individuale e personale guardate che Platone non parla mai di un tema solo per fermarsi a quello ma irradia dei significati veramente molto potenti orbene il simbolo è come metà soglio la dice Platone una soglia divisa in due noi siamo esseri divisi in due e una parte cerca fanosamente l'altra e quando la trova i due si incontrano e si uniscono con i corpi per fare l'uomo intero l'uomo intero è l'uomo in una condizione di coito in una condizione di unità corporea e questa unità corporea dice Platone nella sua malinconia pessimistica è il tentativo è la memoria dell'antica unità di che cos'è veramente un uomo un uomo è un uomo se è con un altro uomo con un'altra donna una donna è una donna se è con un altro uomo con un'altra donna memoria dell'antica unità tentativo di ricostruire questa antica unità e alla fine come malinconia sconfitta perché poi i due corpi si separano e si ritorna nella solitudine simbolica nella solitudine di essere non più uomini ma parte di un uomo e qui possiamo concludere grazie 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 grazie